Sicuramente serve un'altra proprietà, in primis, poi dipende se quest'altra proprietà mi chiama, se crede nelle mie potenzialità, se crede che io per la Roma posso fare qualcosa di buono, sicuramente non ho mai fatto e mai farò del male alla Roma, perché per me la Roma viene prima di tutto, anche in questo momento, e per me oggi è un momento altro che quando ho smesso di giocare, cioè staccarmi dalla Roma per me, oggi potevo anche morire, era meglio, però purtroppo, come ho detto prima, per il bene di tutti è meglio che mi stacco io, anche perché tanti personaggi nella Roma hanno sempre detto, personaggi dirigenti dico, hanno sempre detto che sono troppo ingombrante per questa società.